Sicuramente, diciamo, differenza di temperatura ma anche di paesaggio rispetto a Roma. Grande mare, grande... devo dire anche temperatura, non è proprio poi così, almeno per il momento, è abbastanza sopportabile, ma soprattutto perché ovviamente si gode della brezza marina. Quindi si sente, cioè si respira un'area diversa, questo per certo. Si respira un'area più familiare, meno aggressiva, direi, rispetto a Roma. E poi prodotti di eccellenza e di qualità, ho visto il pesce, veramente molto felice di trattare questa materia prima. Guarda, questo è il grande dilemma, no? Perché nel momento in cui si trovano prodotti di nicchia come questi, io tra l'altro sono ghiotta di qualsiasi crostaceo in generale, ma i gamberetti bianchi mi piacciono tantissimo. Io spero che non diventino troppo popolari perché altrimenti praticamente ce ne sarebbero talmente tanto pochi per molte persone che probabilmente finiremmo per distruggere praticamente o comunque per eliminare quella determinata tipologia di crostaceo o di pesce o insomma prodotti che vanno trattati secondo me in maniera molto oculata. Questo è il grande dilemma del cuoco, vuole avere il prodotto unico, il prodotto particolare, il prodotto ottimo, il prodotto di eccellenza di quel determinato luogo, però allo stesso tempo poi ci si trova di fronte alla necessità di dover limitare o comunque addirittura di dover rinunciare. In alcuni casi la rinuncia non deve essere presa in maniera negativa, ma anzi come una forma di rispetto è eticamente corretta da parte dello chef stesso. Quindi quando capita, come mi è capitato oggi, ho espresso il desiderio di avere i gamberetti bianchi e li ho avuti e io sono molto contenta. Grazie.